Cosa hai ascoltato di Latinoamerica? Cosa hai sentito di Latinoamerica in Italia? In Italia, vabbè, ci sono gli stereotipi che i ragazzi latinoamericani sono romantici, Don Giovanni. Cioè, Don Giovanni nel senso che ci provano con tante ragazze. Sti stereotipi qua, che sono molto, come posso dire... Puoi dire, puoi dire, di forma diretta. Molto caliente. Dicono così, proprio così, quando ne parlo, molto caliente. Ciao, bro. Ciao, buongiorno. Una domanda. Cosa dicono dei latinoamericani in Italia? Non ne parlano spesso, però hanno delle belle canzoni che sentiamo spesso noi. Ad esempio? Te ne posso dire una, aspetta. Basame mucho. Quali cantanti? Consuelo Velasquez. Cosa dicono di Latinoamerica in Italia? E che siete tutti buoni. Vero? Sì, sì. Più? Qualche altra cosa, vediamo, pensiamo. Latinoamerica. Ah, l'accento, pazzesco. Innanzitutto. Tutte cose belle, però. Cioè, perlomeno le ragazze, ti riporto un parere femminile. Conocci gente di Latinoamerica in Italia? Che conosco bene, cioè, con cui sono amica, no. Però ho conosciuto un sacco di persone. Come sembra la gente di Latinoamerica, dalla tua perspettiva? Secondo me sono delle persone dolci, simpatiche. E, vabbè, sì, questo è quello che posso dire da fuori. Vuoi conoscere Latinoamerica? Sì, sarebbe bellissimo. Che paesi? Allora, tu? Dove vorresti allenare? Tipo, ci stai all'aspetto, perché io la giocofia... La cartina, amo ti immaginare, tipo Latinoamerica. America è la parte sotto. E ci sentiamo. È stato un piacere. Grazie. Ciao. Ciao. Cosa hai sentito di latinoamericani? Cosa dicono in Italia? Dei latinoamericani? In realtà non si parla molto in Italia dei latinoamericani. No, nulla in particolare. Cioè, personalmente mi piacciono i latinoamericani. Però, in generale, non se ne parla. Perché ti piacciono? Boh, non lo so, mi piacciono i lineamenti, l'accento, mi piace. Tu conosci gente di Latinoamerica? No. Personalmente no. Però, boh, cioè, mi piacerebbe conoscere qualcuno. Sì, ciao. Ciao. Cosa pensano dei latinoamericani? Chi? I italiani? I latinoamericani. Eh, pensano... Che pensano gli italiani e i latinoamericani? Ho parlato di che ballare il reggaeton. Reggaeton, reggaeton. Sto facendo... Ah, però... Ah, ma che mi piace mettere su? I latinoamericani! Ciao, ciao i latinoamericani. Ci metti sotto in stock. Cosa si ti viene in mente quando dico latinoamerica? Qual è la prima cosa? La baciata. La... Come si chiama? Non mi ricordo. Balliamo insieme. Ciao. 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 Ma fai beatbox, queste cose così. Perché? Hai il microfono professionale. Ah no, beatbox no. Faccio video su YouTube. Come ti chiami? Che bella voce hai. Spagnolo. Corretto, corretto. Sto facendo video parlando con gli italiani su Omeghel. Mi parli in spagnolo? Sì, è il primo idioma. Mettici su YouTube. Oh, vuoi apparire? Vogliamo comparire. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando dico latinoamerica? I ragazzi. Ragazzi. Sì. Perché? Perché sono figli. Perché sono belli. Conosci i ragazzi di latinoamerica? Sì. Da che paesi? Repubblica Dominicana, Argentina. Brasile. Ciao. Ciao. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando dico America Latina? Però sei spagnolo. Sì. È il mio primo idioma. Io anche ho spagnolo, però io ho spagnolo. Andaluzia. In Italia hai conosciuto latinoamericani o no? Sì. Beh, sì. Cosa pensano di latinoamericani? Festaioli. Eh, festaioli molto... Sì. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando dico America Latina? Romeo Santos mi viene in mente America Latina. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando dico latinoamerica? Le canzoni. Ah, io riesco a me. E che non puro. Questa è il bravo. Canzoni? Sì. Bacciata. Bacciata di quale cantante? Eh, Royce. Prince Royce. Sì. Oppure... Oddio, come si chiama? Ah, Santana. In Italia conosci gente di latinoamerica? No, Brian. No, no, no. Brian non è latino, no. Brian è albanese. È di Barcelona? Non è... No, è della Colombia. Ah, scusate. È della Colombia. No, allora sì. Colombia è un paese vicino al mio paese. Eh, qual è il tuo paese? Peru. Ma in Peru si parla il peruviano? Si dice spagnolo e la lingua. Peruviano non... Spagnolo? Ah, spagnolo è spagnolo. Non si dice peruviano. Certo. Scusi. Però noi potremmo praticare lo spagnolo. Peruviamo? No. Hola, come stas? Bien. Muy, muy bien. Tu? E tu? Io sto bene. Stoic contento. Por che? Perché... Mi stoic divertendo. Che haces? Omigol. Omigol. Stamos... Facendo, omigol. Si dice facendo, no? Hacendo. No, haciendo. Hacendo. Eh, scusa, scusa, madonna. Non sono una... Cioè, non sono madrelingua. Assiendo, omigol. Ciao. Sei cinese? Non. Sembro. Qual è la prima cosa che si ti viene in mente quando dico latinoamerica? Il balletto. Ciao. Ciao.